Per Bucine sarà un 2002 importante dal punto di vista degli investimenti pubblici? Sì, anche nel capoluogo sono previste diverse opere pubbliche, alcune delle quali già finanziate e mi riferisco principalmente all'adeguamento sismico del plesso scolastico, dell'intero plesso scolastico che è stato finanziato in due tranche per complessivi oltre 1 milione e 200 mila euro, una parte già in corso di realizzazione e l'altra in fase di aggiudicazione dei lavori. Un altro importante lavoro già aggiudicato che partirà ora ad aprile è i lavori di adeguamento dell'impianto sportivo che consistono principalmente nella realizzazione del campo sintetico, cioè il campo ausiliario che fino ad ora era in terra rossa verrà sostituito con un campo sintetico omologato che consentirà quindi uno svolgimento migliore di tutte le attività sia delle squadre amatoriali che anche della scuola calcio, molto importante per tutto il comune. Inoltre verrà realizzata anche delle opere nella parte dedicata all'atletica leggera, abbiamo una società di alliatica importante che ha più di 50 iscritti, quindi un occhio di riguardo anche per la loro attività. Altri due interventi sono già finanziati e partiranno uno di sicuro nell'anno che è quella della riqualificazione del centro di Bucine, quindi ci sarà un intervento sull'astricato per abbattere le barriere architettonie, per migliorare i percorsi pedonali, per metterle in sicurezza e sarà anche quindi l'occasione per realizzare nella parte proprio centrale del paese un tratto di strada a senso unio. L'ultimo intervento è un intervento purtroppo è una necessità perché una parte delle mura sul del castello di Bucine hanno bisogno di un intervento di consolidamento e anche lì è previsto un finanziamento di oltre 400.000 euro e questo è in fase di definizione e a breve dovremo espletare la gara per l'affidamento dei lavori. Quindi possiamo dire tranquillamente che con i 700.000 euro della zona sportiva, i 150.000 circa del centro e gli altri 420.000 euro siamo intorno ai 2 milioni e mezzo di investimenti per il capoluogo. Inoltre abbiamo partecipato a tutta una serie di bandi del PNRR che non riguardano solo il capoluogo ma riguardano un po' tutto il territorio comunale e abbiamo partecipato a un bando per l'efficientamento energetico del teatro, abbiamo partecipato ad un bando dedicato ai borghi, quindi abbiamo previsto in 4 frazioni minori interventi sui lastriati e sui sottoservizi delle parti storiche, insomma delle parti centrali. Abbiamo partecipato anche a un bando per il rifacimento della palestra scolastica di Bucine che è una palestra che anche sotto l'aspetto sismio insomma presenta gravi carenze, quindi più che consolidare quella proviamo, se otteniamo il finanziamento, a realizzarla a un ex novo in un'area di nostra proprietà proprio adiacente alla scuola. Abbiamo anche presentato questo insieme a tutta la conferenza dei sindaci alla USL ai bandi, quelli di indirizzo socio-sanitario per la riconversione e ristrutturazione del centro di Poggi trasfermandolo in una specie di casa famiglia proprio dedicata agli anziani. Quindi se tutti questi bandi in qualche modo vanno in porto sicuramente nei prossimi anni ci saranno tante opere importanti che saranno realizzate.